Sì, per me indossare questa maglia per la prima volta è stato emozionante perché comunque vado allo stadio da quando sono piccolino e ora far parte della squadra della mia città è veramente qualcosa di speciale. Questo è veramente un gruppo fantastico, già il primo giorno che sono arrivato mi hanno accolto tutti quanti benissimo, soprattutto grazie ai ragazzi più grandi che per noi giovani sono fondamentali perché ogni volta che abbiamo un problema sono sempre disponibili per darci consigli sia per il campo che soprattutto anche consigli fuori dal campo. I miei compagni di reparto sono veramente unici perché comunque il nostro capitano Spinelli, Diego Conson, Marco Vesi sono ragazzi, anzi uomini che hanno avuto grosse esperienze alle spalle e sono sempre i primi a darmi consigli in mezzo al campo per farmi migliorare e anche come ho detto prima consigli da oltre il campo anche fuori dal campo. Sì, sicuramente il derby è stata una vittoria importante di carattere che sicuramente ci dà entusiasmo e morale, però noi già da martedì l'abbiamo tra virgolette accantonata perché domenica per domenica ci aspetta una battaglia, infatti anche già domenica dobbiamo andare lì pronti, affamati per portare a casa un risultato molto importante per noi. Sì, domenica ci aspetta una gara sicuramente difficile perché loro comunque vengono da una sconfitta e vogliono sicuramente rifarsi, però noi questa settimana abbiamo lavorato molto bene sotto le indicazioni del nostro mister e quindi andremo là per fare la nostra partita, dando sicuramente il massimo andremo lì affamati per portare a casa un risultato importante.